Iscrizione nel registro degli indagati, un tassello cruciale che si aggiunge al caso del compattatore dell'AMA di via Salaria 981, con quegli odori molesti che da mesi fanno paura a chi abita e lavora nella zona. Il giudice per le indagini preliminari, Donatella Pavone, ha infatti finalmente sciolto le riserve e ha disposto che il pubblico ministero provveda l'iscrizione di AMA nel registro delle notizie di reato. Il procedimento penale era partito grazie alla tenacia dei comitati cittadini e di quei lavoratori delle aziende della zona che avevano portato in procura migliaia di firme. Un fascicolo nei confronti di ignoti per il reato previsto dall'articolo 674 del Codice Penale, che in questo caso specifico punisce l'immissione di gas o vapori molesti. Il giudice ha ritenuto che anche i miasmi provenienti da un impianto autorizzato, come di fatto è quello dell'AMA, possano integrare la condotta illecita prevista dal Codice Penale nel momento in cui venga superata la soglia della normale tollerabilità. L'ordinanza fa riferimento alla consulenza tecnica dalla quale emergono proprio due dati fondamentali, l'emissione dei miasmi da parte di AMA e il superamento di quel ragionevole limite. Francesca Fragale, l'avvocato che assiste ai comitati della zona, si dice soddisfatta ma non si sbilancia. La palla ora passa alla procura e bisogna aspettare di capire che mosse sceglierà, ma una cosa è certa, si tratta di una svolta importante. Grazie a tutti.